Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo l'edizione odierna parlandovi di Rockstar e naturalmente delle prime informazioni trapelate sulle versioni next gen di GTA V. La novità più grande che accompagnerà questi a remaster per le nuove console è la visuale in prima persona che permetterà di rigiocare l'intera esperienza sfruttando della maggiore immersività offerta dalla soggettiva e naturalmente soprattutto nelle sequenze shooting e questo porterà anche a delle interessanti modifiche a livello proprio di gameplay. Ricordiamo che dal punto di vista tecnico sia sulla next gen di Microsoft sia su quella di Sony il gioco girerà a 1080p e 30 frame per secondo mentre invece i giocatori PC potranno godere di una risoluzione fino a 4K. E sempre in tema di next gen si ritorna a parlare di Uncharted 4. I ragazzi di Naughty Dog hanno infatti offerto un'opportunità unica a Martin Sofidal, ossia regista amatoriale di un fan film dedicato al franchise che ha potuto visitare in esclusiva assoluta gli studi degli sviluppatori e vedere in anteprima alcune sequenze proprio di Uncharted 4 di nuovo con protagonista Nathan Drake. Le sue impressioni sono state eccezionali per quanto riguarda il comparto grafico che sembra davvero questa volta sfruttare tutta la potenza di PlayStation 4 per riprodurre in maniera incredibile ambienti e personaggi e naturalmente non vediamo l'ora di posare gli occhi anche noi su questa meraviglia. Durante il Nintendo Direct tenutosi proprio due giorni fa, la casa di Kyoto ha annunciato a sorpresa lo sviluppo di The Legend of Zelda Majora's Mask 3D, ossia remake dell'anonimo titolo che era uscito su Nintendo 64 e che arriverà proprio su 3DS durante la prossima primavera. Le novità relativamente al gameplay al momento scherseggiano, per adesso sappiamo soltanto che il livello di difficoltà verrà ricalibrato, probabilmente verso il basso, per venire incontro anche a giocatori meno esperti. Naturalmente speriamo di ricevere nuove notizie in merito per uno dei titoli che sembra tra i più promettenti della line-up della portatile Nintendo. Ma il Nintendo Direct non è stato soltanto un luogo per nuovi annunci, dato che Satoru Iwata in persona ha rivelato nuovi dettagli relativamente a Codename Steam, un interessante strategico già ben noto in sviluppo presso i ragazzi di Intelligent System. Ricordiamo che il gioco arriverà su 3DS nella primavera del 2015 e proporrà un gameplay in parte simile a quello di Valkyria Chronicles di Sega, anche se, ha detto dagli sviluppatori, reso volutamente più action e dinamico. Naturalmente anche in questo caso rimanete con noi per tutte le novità in merito. Nella giornata di ieri CD Projekt Red è uscita allo scoperto con un annuncio che sicuramente farà la gioia di tutti i fan del franchise di The Witcher. Chiunque infatti acquisterà il terzo capitolo in una qualsiasi delle sue edizioni potrà godere di ben 16 DLC gratuiti. Gli sviluppatori hanno infatti tutte le intenzioni di supportare molto il titolo con contenuti a cadenza settimanale. Naturalmente questo ulteriore annuncio non fa che aumentare a dismisura l'attesa per il titolo che, lo ricordiamo, arriverà il 24 febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4. World of Warcraft, il popolarissimo mark di Blizzard, potrebbe arrivare nel prossimo futuro anche su console o perlomeno una sua parte. Secondo una voce di corridoio il progetto si chiama infatti Warcraft PvP Battleground e potrebbe arrivare in futuro su PlayStation 4 e Xbox One. Trattandosi soltanto di un'indiscrezione vi daremo tutte le possibili informazioni su questo progetto nel prossimo futuro. E come di consueto passiamo adesso alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo che assegnarlo a Capcom. La compagnia nipponica ha infatti annunciato il superamento del traguardo di 2 milioni di copie vendute per Monster Hunter 4 Ultimate a 4 settimane dal lancio in Giappone. Ricordiamo naturalmente che il gioco arriverà sui 3DS europei ed americani nei primi mesi dell'anno prossimo e quindi tale successo non potrà che essere ripetuto. E il flop odierno spetta purtroppo a Nintendo. Proprio durante l'ultimo Direct il presidente della compagnia Satoru Iwata ha mostrato un nuovo video bellissimo tra l'altro di Xenoblade Chronicles X, titolo sviluppato da Monolith e in esclusiva per Wii U. Se per il Giappone è stata confermata la data di uscita relativa alla primavera 2015 per quanto riguarda l'Europa invece si è parlato semplicemente di un generico 2015 il che fa pensare che il lavoro di localizzazione possa ritardare l'uscita nel vecchio continente. Naturalmente noi speriamo che questo ritardo non si prolunghi ancora anche perché le attese per la produzione sono veramente altissime. E con questo anche per la puntata di oggi era tutto. Noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo martedì. Ciao!